Maxi sequestro da 150 milioni di euro al re dei supermercati Carmelo Lucchese, 53 anni. Ad eseguirlo stamattina su disposizione del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, è stata la Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione denominata Schiticchio. Secondo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia, sulla base degli accertamenti svolti dal GICO del nucleo di polizia economico-finanziaria, Lucchese, pur essendo incensurato, è da ritenere un imprenditore colluso con la criminalità organizzata. Per questa ragione è stata sequestrata la società Gamac Group SRL, che gestisce 13 supermercati a marchio Conad e Todis, 7 a Palermo e gli altri, tra Bagheria, Carini, Bolognetta, San Cipirello e Termini Merese. Le attività commerciali continueranno a lavorare comunque e saranno gestite da un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale. Oltre al sequestro dell'intero compendio aziendale, che nel 2019 è arrivato a fatturare circa 80 milioni di euro, le fiamme gialle hanno anche messo i sigilli a 7 immobili in zona Pagliarelli, 61 rapporti bancari, 5 polizie assicurative e 16 autovetture, tra le quali due Porsche Macan. Seppure non organicamente inserito nell'organizzazione criminale, Lucchese ha sempre operato sotto l'ala protettiva di Cosa Nostra, così scrive al collegio presieduto da Raffaele Malizia, accogliendo la ricostruzione del procuratore Francesco Lovoi. Quando i mafiosi di Bagheria cercavano un rifugio per Bernardo Provenzano, nell'ultimo periodo della sua latitanza, l'imprenditore della grande distribuzione avrebbe dato la disponibilità di un appartamento. Lucchese, in cambio dei favori, avrebbe assunto familiari di bossi nei propri punti vendita. Secondo i pentiti, avrebbe avuto contatti con la famiglia mafiosa di Bagheria, traendone nel tempo vantaggi imprenditoriali. Lucchese sarebbe riuscito a espandersi economicamente nel settore valendosi di interventi della mafia, acquisendo ulteriori attività commerciali, scoraggiando la concorrenza anche attraverso atti di danneggiamento, risolto controversie sotto con alcuni soci, ottenendo la possibilità di rilevare un'impresa contesa e beneficiando di una dilazione nei pagamenti ed evitato il pagamento del pizzo nella zona di Bagheria.